Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi come vedete dalle mie mani creeremo insieme con la resina. Ho miscelato già la resina e ho fatto 24 grammi di componente B e 40 grammi di componente A. Vedete già è bella miscelata ed è trasparentissima. Sto utilizzando la trasparente della Resin Pro. Allora per prima cosa oggi dobbiamo fare questi quattro stampini che sono tutti uguali. Uno, due, tre e quattro. Guardate questo è fuori sporco. Questi quattro perché devo fare delle bomboniere per un diciottesimo compleanno. E vi faccio vedere come escono fuori perché ne ho un po' già pronte. Vedete? Sono queste rose blu con l'effetto diciamo galassia. Qua devono ancora tutte essere limate. Ne ho fatte 20, ne devo fare altre 20. Per prima cosa facciamo queste. E andiamo a dividere la resina. Allora prendiamo un bicchierino e mettiamo la resina qua dentro. Ne metto un bel po' perché devo fare quattro stampi. Un altro pochino magari. Se avanza lo utilizzeremo dopo. Non è un problema. Dai, metti il fuoco. Ok. Adesso prendo il mio colorante blu. E qui. Ok. E ne prendo un po' con uno stecchino, stuzzicadenti. Quello che volete. Purtroppo questo colorante mi è riuscito un po' maluccio. Ed è, come si dice, addensato un po'. Ecco. Spero che cada un'altra goccia. Ok. Ci sono molti, molti, molti pezzettini di, come vi posso spiegare, di colorante dentro. È troppo addensato. Purtroppo. Tanto l'ho ordinato e questo arriverà. Credo che in questa settimana, no, nella prossima settimana vedrete che mi sono arrivati dei pacchi. Anche una collaborazione. Non vedo l'ora che arriva il pacco. Perché sono ansiosa di vedere il colore blu come sarà. Perché non posso tenermi questo colore così. È orribile. Ok. Questo è da buttare. Ok. Togliamo questo. Perché sennò faccio dei pasticci. Già mi conosco. Ok. Adesso andiamo a mettere il glitter. Perciò dobbiamo mettere il viola. Poi il nero effetto galassia. Vedete che bello. Non capisco perché il mio cellulare oggi non mette bene a fuoco. Il nero effetto galassia. Poi questi blu. Mi sa che è tanta la resina. Devo mettere tanto colore. Poi questi altri neri sempre effetto galassia ma sono più grandi. Devo andarle a ricomprare. Ok. Poi questi argento. Sempre olografici sono. Poi, poi, poi cosa avevo messo. Questi argenti è normale. L'argento. Non tanti. Non mi piace appuntare questi colori. Ma questi no. Dove sono gli altri? Ok, questi. Sono bianchi di varie forme. Di varie misure, voglio dire. Scusate. Ok. E basta, mi sembra. No, questi neri. Scusate. Ok. Genio della lampada. Ok. Ok. Praticamente sono andata a togliere il tappo del barattolino. Adesso andiamo a mettere i nostri glitter neri. Scusatemi, ma ho dovuto stoppare perché ci ho messo un po' per togliere il tappo. Adesso dobbiamo mettere questi glitter qui. che sono quelli che sono quelli bianchi ad effetto sirena, che sono quelli che praticamente fanno il tutto. Ok. Adesso misceliamo bene. Ho detto bien. Mi sto diventando spagnola. Ovviamente sto scherzando. Guardate che bello il colore. È bellissimo. Adesso andiamo a versarlo dentro i nostri stampi. Ok. Forse ho esagerato un pochino. Questo è il primo. Mettiamolo da parte. Questo è il secondo. Questi li ho fatti da poco. Questi stampini qui. Due. Questo qui mi sta abbandonando. Forse sarà l'ultima volta che lo utilizzo. Tre. E quattro. Aspettate che questo è sporco. E quattro. Perfetto. Adesso li lascio qui da parte. E poi domani li vedremo insieme. Adesso voglio fare questa. Questa gemma qui. Questi sono alcuni degli stampi che ho preso da Maria Tortorici. Penso che lo abbiate capito. Non c'è bisogno che ve lo dico. Perfetto. 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 E il colore blu è finito. Ok. Adesso sposto un pochino questo stampino. tolgo il blu che mi è caduto a terra. prendo un altro bicchiere. E metto la resina dentro. Ok. Adesso vorrei farla verde. Utilizzerò un colore acrilico perché lo preferisco. non ne metto molto perché voglio fare le creazioni tipo in trasparenza. Se si può così metterò poi ancora. Ma non credo. Ok. Oddio. Adesso mescoliamo per bene. Finché non si scioglie completamente tutto. Mi metto un altro po' di resina perché ho messo troppo colore. Credo. Non mi va che non sia in trasparenza. Se sentite dei rumori ambigui ci sono Macchiolina che salta e Gara che fa lo scemo. Ok. Pulisco questo cucchiaino. Perché c'era un po' di colorante in più. Ecco qui. Vedete adesso è verde. Però è trasparente. Adesso andiamo ad inserire dentro dei glitter. Vediamo quali possiamo mettere. Io ho questi anche. Che li volevo utilizzare da molto. E non so mai dove metterli. Adesso è la buona occasione per poterli usare. Ok. Vabbè li metto tutti qua. Sono pochi. Ecco. Questi sono finiti. Poi vediamo cosa ho qui di verde. Credo niente. Comunque. Dai. Mettiamo un po' di questi bianchi. Questi sono bellissimi. E danno delle illuminations stupende. Sono questi qua. Vedete. Adesso vado a mettere questi. Che sono sempre verdi. Sono verde scuro diciamo. Poi questi. Che sono un mix. Io adoro i mix. Mi piacciono un sacco. Ok. E per ultimo questi. Che ce li ho da millenni quasi. Ok. Fortuna che i glitter non scadono mai. Perché sennò. Adesso misceliamo il tutto. Ed è bellissimo. Guardate che colore bellissimo. Che mi è uscito fuori. Tutto bello pieno di glitter. Di tutte le forme. Di tutte le misure. Guardate che bello glitterato. E adesso andiamo a fare. Questo. Che ha la forma di. Come si dice. Della teiera di Alice. Nel paese delle meraviglie. Alice in Wonderland. Ok. Questo è il primo. Lo spostiamo un po'. Non si vuole spostare. Ok. Adesso andiamo a fare questo. Che qua ce ne va proprio poca. Resina. Gara gioca con questo giocattolino. Fa come un pazzo adesso. Ok. Mettiamo qui. Ok. Anche questo è fatto. Adesso facciamo questo. Va. Sì. Questo qui. Questi li ho presi tutti da Maria Dottorici. Lo faccio entrare bene in tutte le scanalature. Perché se no. Non ho concluso proprio niente. Mi verrà fuori una schifezza. Ok. A me piace fare anche il centro. Dei cammei. Non so voi. A me piace tantissimo. Fatemi sapere nei commenti voi se lo fate. Perché vedo molte persone che non lo fanno. Ok. Adesso vorrei fare questo. Questo qui era uno stampino per dolci. E vorrei tanto provare se la resina viene fuori. Se non viene fuori dovrò buttarlo. Praticamente se notate ha la forma di un cammeo. Vedete troppo bello. Mi piace tanto questa forma. E spero che esca fuori. Ho messo troppa resina. Ok. Adesso dovrebbe stare in piedi. Ma sarà una cosa quasi impossibile. Ok. L'appoggio all'altro cammeo. Così. Perfetto. Adesso vado a fare. Questo gattino qui. Questo gattino che. È una commissione. E devo provare lo stampo. Come è venuto. Vi ricordo che. Sul mio shop facebook. Trovate tutti. Tutti i miei stampi. Tutte le mie creazioni. Andate a dare un'occhiata. Qui è rimasto un po' di resina. Vediamo se ce n'è un'altra qui. Così la unisco. E faccio magari un altro. Se ce la faccio adesso. Ok. Vado a fare questo qui. Questo era uno dei miei stampi preferiti. Credo che lo conoscete tutti. E mi è arrivato lo stampo nuovo. In questi giorni. Perché sapete che mi si era fracassato tutto. Praticamente la resina se lo era mangiato. Talmente lo usavo tanto. Ok. Credo che così può bastare per oggi. Queste sono le creazioni che abbiamo fatto insieme. Domani vedete la continuazione di questo. Di questo. Come si dice. Oggi abbiamo creato. Domani scopriamo. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Ma soprattutto che vi sia stato utile. E noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.